salve in questo video vorrei parlare della malinconia fra i tanti stati d'animo che la relazione suscita vi è la malinconia l'essere innamorati è una condizione di privilegio nella quale per lo più si avvertono sentimenti di gioia si avverte l'euforia un'ebbrezza rigeneratrice ma la condizione dell'amore può anche generare un senso di smarrimento e di tristezza soprattutto quando si vive una relazione appagante che dona quel senso di pienezza tipico dei rapporti che funzionano e allora può accadere che in assenza dell'altro ci si senta confusi e demotivati su un terreno psichico di questo tipo la malinconia attecchisce molto bene e fa sprofondare gli amanti in uno stato che potremmo definire di attesa la malinconia scaturisce dalla mancanza quindi dall'assenza dell'altro e si caratterizza come una condizione simile ad uno stato di trance nella quale le funzioni vitali vengono ricondotte al minimo e le energie sembrano assopirsi improvvisamente l'assenza della persona amata genera quindi uno stato psicologico molto particolare perché caratterizzato da una grande fragilità ed anche dalla palpitante attesa del ritorno per quanto ogni relazione di coppia tenda a preservare l'individualità degli amanti e quindi a rispettare la loro alterità è anche vero che ogni relazione genera comunque un'alchimia che ben presto diventa indispensabile per entrambi è come se nell'atmosfera creata dalla presenza dell'altro vi fosse l'ossigeno necessario per vivere bartes diceva l'assenza dell'altro mi tiene la testa sott'acqua e così io poco a poco soffoco la mia aria si fa sempre più rarefatta ed è attraverso questa sfissia che io riconosco la mia verità la mia verità in effetti la separazione dalla persona amata seppur breve e temporanea rivela a noi stessi l'indispensabilità del rapporto quando l'altro non è al nostro fianco ci sentiamo destabilizzati ci sentiamo privi di punti saldi ai quali affidarci in questi momenti non c'è altra soluzione che fa riferimento a noi stessi e quindi attendere attendere con ansia che giunga il sospirato momento della presenza questa alternanza di vuoti e di pieni quindi di luce e di ombre scandisce il tempo dell'amore e orchestra l'alternanza dei nostri stati d'animo quindi avremo euforia e malinconia gioia e disperazione che sono inevitabili come il susseguirsi delle stagioni è sorprendente osservare quante sensazioni può risvegliare l'assenza della persona amata quanti fantasmi vengono destati dall'avanzare della malinconia e della solitudine si tratta per lo più di fantasie di idee assillanti che si ripercuotono nella mente tormentandola con infiniti punti interrogativi dove sarà con chi sarà in questo momento sono queste le domande tipiche oppure cosa starà facendo senza di me sono le domande più frequenti che tormentano gli amanti nel momento dell'assenza ma si tratta di domande più che logiche già che l'assenza genera dei vuoti e questi vuoti esigono di essere riempiti i dubbi e persino i sospetti servono per colmare le lacune della nostra anima anche se sarebbe più opportuno e meno logorante cercare conforto nei ricordi ripensare con nostalgia ai momenti più belli è già uno stratagemma efficace per sopportare l'assenza nel ricordo possiamo rifugiarci e possiamo ritrovare un po di sollievo e di ristoro quando poi finalmente potremo riabbracciare la persona amata come per incanto la malinconia dell'assenza svanirà e la solitudine dei giorni passati si trasformerà in uno spiacevole ricordo la presenza dell'amato ci riporta alla vita ci aiuta a riaffiorare da quelle acque nelle quali abbiamo temuto di annegare il ricongiungersi all'altro in questi casi permette di riemergere da quello stato di trance che l'assenza aveva prodotto e corrisponde ad una sorta di risveglio da una specie di letargo durato per tutto il tempo della separazione e questo risveglio investe non solo l'anima ma anche il corpo coinvolgendo tutti i sensi e riattivando tutte le migliori risorse fisiche quindi saremo più vigili e attivi saremo più svegli perché gli amanti si sono ritrovati e hanno finalmente ricongiunto le loro anime e i loro corpi in un rassicurante abbraccio la malinconia della separazione dunque può essere affrontata e sconfitta a condizione però di sapere che l'assenza avrà fine questa è una passione vera sapete quando noi riconosciamo che è una passione vera quando insieme alla passione c'è anche il rispetto per noi stessi questo è l'unico modo per riconoscere una passione vera distinguendola da una fantasia distruttiva che ci porta lontano da noi stessi fantasticare è la più eclettica delle prerogative umane e ben venga la fantasia perché ci mette nelle condizioni di creare di dare vita a nuovi progetti la fantasia può addirittura regalarci la forza di compiere azioni temerarie perché la fantasia è un canale espressivo del nostro inconscio che mette in relazione il mondo interno e il mondo esterno vedete non è un caso se nella nevrosi e più in generale nel disagio psicologico una delle prime funzioni ad essere compromesse è proprio quella del fantasticare ma è anche vero che le fantasie possono diventare i nostri più acerrimi nemici come i fantasmi di cui parlavo prima che ci perseguitano durante la notte oppure le voci assillanti che ci tormentano durante il giorno il problema è dato dal fatto che le fantasie prendono vita nel profondo dell'inconscio dando vita ai nostri sogni ma anche ai nostri deliri che rappresentano un magma incandescente quando la fantasia è appassionata è bruciante nulla scotta di più di una fantasia e allo stesso tempo la fantasia è come un buon libro che ci dà spiegazioni non del tutto definitive e mai dogmatiche in quanto la fantasia ci lascia quello spazio giusto all'interno del quale poter costruire la nostra immagine che corrisponde ad una ricerca infinita così come le risposte che cerchiamo non possono essere definitive perché sono itineranti e allora la fantasia è come la passione ci porta lontano dal qui e ora ci fa sognare col rischio di perderci ma a questo punto potremmo dire che per ritrovare noi stessi dobbiamo prima perderci e la fantasia ci prepara questo viaggio tra le pieghe della nostra anima per scoprire chi siamo ma per scoprire chi siamo dobbiamo avere inventiva e soprattutto dovremmo avere quello che si chiama un sano narcisismo per attivare il gusto della ricerca interiore fino ad arrivare a conquistare noi stessi il resto di quest'opera ha bisogno della presenza essenziale di un altro e quindi c'è bisogno di una relazione ma non con un narcisista patologico una relazione che ci dia l'idea del nostro potenziale altrimenti senza un altro noi non capiamo cosa potremmo essere e cosa potremmo diventare bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video come questo se vi iscrivete verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia il mio sito è www.robertoruga.it dove troverete altro materiale infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype la videochiamata su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al numero che troverete nella descrizione di questo video oppure potete scrivermi a r punto ruga chiocciola virgilio punto it in bocca al lupo